Ciao ragazzi, io mi chiamo Alessio e faccio il giutaio. Oggi, finalmente, dopo mesi, forse addirittura anni di preparazione, ma soprattutto di procrastinazione, non potevo scegliere una frase con più R, si parte con il canale. Qualcuno di voi già lo saprà, probabilmente la maggior parte di voi lo ignorerà, ma più di 5 anni fa ormai ho aperto la mia attività, la liuteria guarnieri. Nel mio laboratorio costruisco, riparo e restauro chitarre e da oggi in avanti vorrei portarvi con me per mostrarvi che cosa faccio. Se vi va quindi di seguirmi, iscrivetevi al canale qui sotto, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!